Facciamo la pepata di cozze, puliamo le cozze in questo modo, così. Paschiamo le cozze, vanno eliminate anche le cozze, quelle che sono leggermente aperte. Sciacquiamo le cozze e facciamole scolare. Mettete in una pentola 3 cucchiai di olio di oliva e uno spicchio d'aglio tagliato a pezzetti. Aggiungiamo le cozze, un limone. Chiudiamo con il coperchio e mettiamo sul fuoco. Fate cuocere senza alzare il coperchio dalla pentola. Mescolate in questo modo. Dopo circa 7 minuti, e cioè quando vedete che le cozze sono aperte, spegnete il fuoco. Aggiungete un po' di prezzevolo, chiudete di nuovo il coperchio e lasciate riposare per circa 5 minuti. E servite al tavolo. Buon appetito!